Per il coronavirus abbiamo 450 esperti, task force, tavoli di lavoro e non si è ancora in grado di avere una visione complessiva del sistema Italia e delle reali necessità dei cittadini e dei lavoratori. Per quanto fosse ovviamente necessario occuparsi in prima istanza della salute delle persone, dopo 60 giorni non è più possibile che tutte le altre necessità restino ancora senza risposte e fra queste necessità esiste anche la salute degli animali. Così in una nota la senatrice Barbara Masini che insieme ai colleghi toscani Massimo Mallegni e Roberto Berardi, tutti di Forza Italia, ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'ambiente, del lavoro e dello sviluppo economico per sapere se intendano includere i giardini zoologici e affini in tutti i provvedimenti a sostegno delle imprese della filiera del turismo, musei e beni culturali e per chiedere maggiori tutele per il comparto. Per Masini le attività legate ai giardini zoologici con entrate a zero ma con le spese che continuano a galoppare sono casi emblematici. Se infatti per alcuni comparti lo spegnimento dei macchinari è sufficiente per abbattere i costi di gestione, afferma l'esponente azzurra, per i bioparchi e i giardini zoologici questo è praticamente impossibile. Gli animali hanno bisogno di nutrimento e assistenza, le piante di cure e il verde di manutenzione. Il fatto che non abbiano visitatori non implica che il circuito si fermi. Lo zoo di Pistoia, per citarne uno su tutti, sostiene Masini, è un polo scientifico, culturale, didattico e turistico assieme e rappresenta un patrimonio importante dell'intera città e dell'intero territorio toscano. Rivolgo un appello a tutti i parlamentari di zona per marciare uniti in questa battaglia di tutela di un nostro bene così peculiare e prezioso. È estremamente urgente, conclude, autorizzare la riapertura già il prossimo 18 maggio, specificando il protocollo di sicurezza da tenere.